Tilli, Trilli e il bosco di Taralli Tilli è sempre stato considerato il re della foresta. Era il leone più feroce e possente di tutta l'Africa. Era ammirato e temuto da tutti gli animali della foresta, che spesso tendevano a lasciarlo un po' in disparte, perché spaventati da lui. Il suo ruggito copriva distanze sterminate e con le sue falcate poteva raggiungere un luogo a chilometri e chilometri di distanza, in pochissimi secondi. Le gazzelle, gli gnu e tutti gli altri animali della foresta cercavano di stargli lontano per paura di imbattersi in lui proprio nel momento del pranzo. Perché si sa, i leoni hanno molto appetito e loro non volevano certo diventare il suo pranzetto. In realtà però, pochi di loro lo conoscevano davvero e sapevano che Tilli era un docile, tenerone e vegetariano leone. Tilli non voleva farne del male a nessuno, figuriamoci se voleva mangiarli. Sapeva di avere tanta forza ed energia in corpo e a volte non sapeva come fare per controllarle, per cui correva, correva e correva in modo da stancarsi e non provare più tutte quelle emozioni che lo facevano sentire sempre un po' agitato. Muoversi tanto e forte, come diceva lui, era l'unico modo che conosceva, ma non gli bastava. Era infelice perché era sempre da solo e nessuno lo capiva. Un giorno, mentre fingeva di dormire, alcuni animali della foresta si sedettero per riposare all'ombra di un albero vicino a lui e li ascoltò. Parlavano di un posto molto lontano da lì, dove gli animali sono tutti amici tra di loro. Un posto dove si trovavano tanto verde, tanta ombra e un grande lago, il lago dell'amicizia, in cui tutti gli animali si tuffavano per fare il bagno. Quel luogo, all'apparenza meraviglioso, era il Bosco di Taralli. Che meraviglia! Proprio quello che vorrei! Un luogo dove avere amici e poter parlare con qualcuno, senza spaventarlo, solo perché sono un leone, pensò Tilly. E allora si decise e partì alla ricerca di quel bosco. Era molto contento, anche perché in Africa era caldo, troppo caldo per lui, che odiava sudare. Quando sudava troppo, gli si appiccicavano tutti i peli e la criniera sembrava brutta e sporca. Mentre a lui piaceva essere pulito e profumato e soprattutto riposare all'ombra. L'Africa proprio non faceva per lui. Passarono i giorni, le notti, la pioggia e il sole e Tilly camminava alla ricerca del Bosco di Taralli. Quando a un tratto, in lontananza, vide un grande e verde bosco. Gli alberi si alzavano verso il cielo, mentre i loro rami, ricchi di foglie, creavano sotto di loro ombra fresca. Tilly era stanco, ma molto felice, e si avvicinò al Bosco in maniera rispettosa e curiosa. Ciao, sei uno nuovo? Quella vocina si stava proprio rivolgendo a lui. Tilly allora si voltò e vide una bellissima gattina bianca con dei profondissimi occhi verdi, con la coda morbida e il pelo folto. Ciao, io sono Trilly, disse la gattina. E io Trilly, rispose il leone. La gattina gli chiese di raccontargli la sua storia dell'Africa da dove veniva e di tutti gli animali che vivevano nella foresta. In cambio, lei gli raccontò com'era la vita nel bosco di Taralli. Subito, Tilly scoprì che era tutto vero. Gli animali erano tutti amici tra loro e soprattutto non si fermavano all'apparenza, all'aspetto esteriore. Infatti, proprio per questo, nei giorni successivi, scoprì che nessuno aveva paura di lui, perché era un leone. Trilly lo accompagnò in giro per il bosco, presentandogli tanti nuovi amici e facendogli scoprire tutti gli angoli più belli e nascosti. Esplorarono caverne dove per entrare bisognava stare quatti quatti, saltarono sopra tronchi di alberi rovesciati e passarono sopra ponti pericolanti. Insieme a loro c'erano sempre tanti amici, coniglietti, uccellini, un meraviglioso airone e persino una famiglia di canguri provenienti dall'Australia. Il Bosco dei Taralli era un vero e proprio paradiso da esplorare in lungo e in largo.